ciao a tutti bentornati in questo nuovo video bentornati sul mio canale oggi parliamo di un'altra testimonianza di premorte o dn d e in questo caso una testimonianza che ha fatto così tanto scalpore a livello mondiale e nel mondo cristiano in particolare tanto che è stato dedicato addirittura un film film che potete trovare online e ultimamente mi pare che si trovi anche una versione non bellissima comunque godibile anche qua su youtube per cui cercatela e parliamo del bambino che ha visto il paradiso e parliamo di colton burpo colton burpo che oggi ha circa 21 anni è del 1999 all'età di quattro anni circa ebbe un attacco di appendicite anzi di peritonite siccome in quel periodo c'era c'erano moltissimi casi di influenza tra cui anche la sorella maggiore di colto fu questa appendicite trascurata convinti che fosse come per la sorella che aveva più o meno gli stessi sintomi influenza fino a trasformarsi in una peritonite perforante i genitori portarono colton prontamente all'ospedale più velocemente possibile già lì si vide in una prima analisi del bambino che era messo molto male era molto grave si decide all'ospedale di operarlo prontamente e immediatamente perché non avrebbe superato sicuramente le ore successive quindi si procedette all'operazione essendo i genitori molto credenti anzi papà era un pastore aggiunto quindi un ministro della fede cristiano iniziarono subito a pregare il papà andò nella cappella dell'ospedale a pregare la mamma cominciò a chiamare amici e parenti perché pregassero per il bambino e queste due cose il fatto che i due genitori si divisero uno in un posto e l'altro nell'altro sono molto importanti per la testimonianza successiva che fece colton e l'operazione alla fine andò bene però nonostante nel film si faccia credere che il bambino resti comunque sul filo della vita e i medici confermarono che per tre minuti per tre lunghissimi minuti il bambino cessò di vivere cioè ebbe tre minuti di morte fisica sebbene sostenuto dalle macchine della sala operatoria subito sembrava ovviamente un bambino normale che recuperava dalla malattia qualche tempo dopo nella pena bambino si riprese iniziò a comportarsi in maniera tra virgolette strana per un bambino di quell'età i genitori subito si preoccupavano un po perché il bambino a volte sembrava assente sembrava guardare il nulla sembrava avere qualche problema portato a visite di controllo invece bambino risultava dal punto di vista psicosomatico sano però improvvisamente il bambino durante una gita cominciò ad esprimere i genitori comincia ad esprimere quello che aveva vissuto durante quei minuti di morte andiamo per gradi visto che pure inizialmente sia il papà e la mamma come abbiamo detto molto fedeli molto credenti e però motivo di non credere al figlio cioè questa questa realtà che il figlio li imponeva er talmente sconvolgente che inizialmente anche loro che presero un po le distanze furono poi travolti e sconvolti di adaglia dagli avvenimenti e poi questo invece portò estrema gioia e felicità all'interno della famiglia il primo impatto con raccolto di colton fu quando papà in macchina li chiese se se giro di qua vado all'ospedale per fare uno scherzo avresti paura e il bambino invece gli raccontò che non c'è da aver paura anzi che lui vi aveva visto il dottore che lo stava aggiustando dall'alto quindi lui è uscito dal corpo e vedeva i medici che operavano sul suo corpo per quei minuti in cui lui è stato morto e aveva visto il papà appunto pregare prendersela con dio che voleva portare via forse anche questo figlio e la mamma invece nella sala d'attesa piangente chiamare gli amici perché pregassero per il suo bambino quindi già questo sconvolse i genitori che come come fa e saperlo cioè non lo sa nessuno tranne noi perché un'ora qua un'ora era andato alla cappella dell'ospedale l'altra era in sala d'aspetto eccetera e il bambino appunto raccontò che li aveva visti dall'alto successivamente soprattutto il papà che iniziò stimolare ricordi il bambino a cercare di capire cosa era successo suo figlio e bambino raccontò sia degli angeli che cantarono per lui sia di essere stato in braccio a gesù ovviamente queste cose lì per lì sembravano dei racconti un po fantastici papà anche si rivolse a medici a psicologi ottene risposte e le più le più variegate e la sua fede vacillava un po succede poi che figlio gli da una prima prova concreta che quello che diceva che quello che raccontava era vero la prima prova incontestabile che il bambino dal papà e quando gli racconta di aver conosciuto il nonno del papà quindi il suo bisnonno morto trent'anni prima prima ancora la nasce del bambino ovviamente che aveva quattro anni di nome pop e di dire al papà che questo nonno era molto simpatico il papà allora una volta rientrati a casa gli fa vedere una foto del nonno però una foto del nonno in età anziana e bambino lì dice no non è lui allora il papà cerca delle foto di quando il suo nonno era giovane e bambino lo riconosce dice guarda che la sono tutti giovani cioè si torna a una certa età almeno quello che bambino ha ha visto e quindi riconosce in una foto vecchia vecchissima il nonno del papà ed il papà allora inizia a credere che l'esperienza avuto dal figlio sia un'esperienza reale hai visto poco hai visto mio nonno l'hai visto quando l'hai visto in paradiso è in paradiso è venuto da me e mi ha detto che era il tuo nonno e che lo chiamano il pop e mi ha tenuto sulle ginocchia proprio come gesù qua però inizia a entrare in contrasto con la moglie con la mamma di colto la quale e dovendo gestire anche le finanze che in quel momento non erano delle migliori inizia un po a irritarsi di questo tutto parlare di paradiso di cose quando ci sono delle urgenze imminenti nella vita reale cambierà idea a breve cambierà il breve quando qualche giorno dopo essendo lì a sistemare delle cose con il bambino presente che giocava il bambino gli dice che ha una sorella la mamma ovviamente dice ciao hai tua sorella 4 sorella più grande noi dice no ho un'altra sorella che ti è morta in pancia l'ho conosciuta mi ha raccontato devi stare tranquilla mamma perché lei adesso è in paradiso è con gesù e sta bene lì la mamma sconvolta dice chi te l'ha detto sì è vero gli era morta aveva abortito quasi sui nove mesi quindi la bambina doveva star per nascere e per un problema ovviamente medico la bambina morì e loro addirittura non vogliono sapere se era un maschio una femmina quindi il bambino gli disse che era una femmina e quando lei chiese il nome al figlio il figlio gli disse un'altra realtà che la bambina non aveva nessun nome perché loro non gli avevano dato nessun nome lì la mamma non ebbe più nessun dubbio che quello che raccontava il figlio era una realtà in quanto nessuno in casa da allora aveva mai parlato neanche la sorella più grande la sorella maggiore di colto sapeva della di questo fatto per cui nessuno avrebbe potuto di bambino non avrebbe mai potuto percepire diciamo così in casa deve aver avuto una sorella che in realtà era morta ancora prima di nascere avevi una bambina che ti è morta nella pancia e tolei che è morta nella tua pancia quindi questi due fatti quelle del nonno pop e della sorellina convinsero i genitori che quello che stava raccontando colton era la verità colton era stato veramente in paradiso in braccio a gesù ovviamente i racconti di colton non si fermano lì ci sono molti altri dettagli che potete trovare nel libro ma anche nel film il cui titolo in italiano è il paradiso per davvero per cui se volete vedere un po la storia qualche scena sicuramente ve l'ho messa qua nel video il paradiso per davvero anche il libro a questo titolo in italiano e ovviamente il papà di colton a questo punto comincia a raccogliere tutte le testimonianze non solo del figlio ma anche andando a rivedere i fatti le persone eccetera in maniera da essere certo che quello che raccontava il figlio fosse accaduto anche in sala operatoria una volta ottenuto i dati di fatto che il figlio morto vedendosi dall'alto aveva visto esattamente quello che facevano i medici chi è il medico che l'aveva curato chi è il medico che invece l'aveva aiutato poi con i farmaci e via e via e via quindi c'era anche la prova tangibile fisica che il bambino aveva vissuto questa situazione di premorte che quindi quello che raccontava non era una fantasia ma un'esperienza reale colton burpo quindi è stato realmente in paradiso questo è il dato di fatto che riscontriamo da questa storia e dalle prove evidenti che papà ha raccolto ora il libro soprattutto negli stati uniti e il film sono diventati un best seller in italia un pochino meno perché non è stato dato grande riscontro a questo fatto la dimostrazione che in italia certe cose sono ancora tabù o relegati solamente alla pura religiosità spero che anche questo questa testimonianza il racconto di questa esperienza di anni idea di sia piaciuta mi raccomando scrivetemi qua nei commenti se queste cose vi interessano se volete che approfondiamo sempre di più e io cercherò sempre nuovi casi vi porterò sempre nuove testimonianze e appena possibile sto facendo un'ulteriore ricerca con dei contatti a livello internazionale cercherò di portarmi sempre maggiori notizie anche di dove è arriva ed come sta continuando la ricerca scientifica dell'enni di e mi raccomando iscrivetevi il canale mettete un bel like queste due cose sono gratuite per voi a me aiutano a crescere devo arrivare almeno ai 10 mila iscritti per potervi dare un tipo nuovo di contenuti che youtube permette solo a chi ha almeno 10 mila iscritti ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti da ermanno ciao